Ciao a tutti dal salutatore, io devo ringraziare tantissimo il grandissimo Enrico Luci e tutti voi viene, io mi sento un grande energizio, mi sta saltando proprio, mi sta salendo l'andrenalina, il salutatore adrenalinico, grande energizio. Io vi ringrazio del servizio che mi avete fatto fare, perciò io vi saluto tutti quanti e approfitto a ringraziare anche a tutti gli artisti che si sono prestati a salutare tutti gli utenti e che si presteranno, perciò io vi faccio un ringraziamento. Ciao Enrico Luci e staffe e tutte le Iene, ciao a tutti dal salutatore, ci sono pure due disturbatori, ciao! Michigiusino.it Mauro Fortini, salutatore, ciao!